Nell'ultimo anno 768 lavoratori del settore scolastico di cui 378 docenti e 386 ausiliari tecnici e amministrativi hanno perso il proprio posto di lavoro. Nell'ultimo triennio la cifra sale a 3432 unità. L'allarme è stato lanciato dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza CGL regionale che chiede un intervento immediato della regione. Secondo il segretario Cinziangrilli i tagli rimangono nonostante le 500 immissioni in ruolo pubblicizzate in maniera impropria in estate che riguardano posti vacanti e disponibili ma che ovviamente non sono tutti posti vacanti e disponibili. Non è vero che queste immissioni sono state fatte a costo zero così come prevedeva la relativa legge perché il governo nazionale ha risparmiato ben 70 milioni di euro. A fronte dei 378 docenti tagliati ha detto il segretario la scuola abruzzese ha perso solo 708 alunni. La flessione più consistente riguarda la scuola primaria e la scuola superiore. Si tratta comunque di un dato preoccupante che dimostra come non ci sia stato un sistema per tenere gli alunni a scuola e che riafferma la necessità di classi in cui gli studenti siano seguiti dai docenti. Preoccupa anche il ridimensionamento della rete scolastica. La regione ha detto Angrilli ha aperto un tavolo tecnico e si è chiesto che sia posta l'attenzione sulle specificità territoriali. In Abruzzo l'applicazione di questa legge porterebbe 72 istituti su 252 ad essere fuori norma e quindi ad essere accorpati in strutture comprensive che abbiano almeno mille alunni. Altro problema da non sottovalutare è quello delle cosiddette classi pollaio ovvero aule di 33 studenti a fronte di una continua diminuzione dei docenti e dei collaboratori scolastici con il risultato che l'emergenza lavoro coincide con un drastico abbassamento purtroppo della qualità didattica.